...su questo e anche sulla vicenda parlamentare. Allora abbiamo, mi sembra, messo un po' in ordine le cose. Non è un'abolizione, però è uno svuotamento di potere, un ridisegno dei poteri, il risparmio previsto dal commissario Cottarelli, quindi comunque infatti l'ha detto in Parlamento, è quello... Vediamo quale sarà la riforma... Vediamo quale sarà, siccome stiamo parlando di qualcosa che è... Voi ieri avete votato contro, però mancavano alcuni senatori di Forza Italia e quindi diciamo poi alla fine per pochi voti... Il caso politico è che sono venuti mancare dei numeri al governo, non che mancavano i senatori di Forza Italia. No, no, a voi se volevate fare la battaglia... Voglio dire, il punto è questo, come abbiamo già visto prima nelle poche frasi dell'inizio del dibattito, il quadro è estremamente confuso, perché alla fine stiamo parlando di una norma che dovrebbe essere transitoria, finalizzata, mi scusi, più a un effetto propaganda annuncio, come già ci ha detto prima l'onorevole Faraore, no? Dobbiamo fare quello che dice la gente, dobbiamo dare un po' di populismo, un po' di verniciata per andare alle elezioni. Ma lo stiamo facendo... Detto da Forza Italia è veramente bellissima questa affermazione. Scusi, se lei mi dice, scusi, se lei mi dice... Però no, 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 guardi, in questo momento veramente... Adesso la battuta sta quanto sta, però veramente sembra... Io la sentivo e sembrava pubblicità progresso. Proprio sentivo pubblicità progresso. Detto da Forza Italia è un progresso. Il risultato della norma, ma le modalità con cui viene fatta questa riforma si sta discutendo. Se si parte da... E' oggettivamente corretta, andiamo veramente molto poco adanti. Quindi la discussione è cosa stiamo facendo realmente? A cosa arriveremo? La domanda è anche a che cosa... Qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo è allungare i tempi per fare in modo che ci siano le elezioni provinciali. Scusi, ma noi l'abbiamo sempre avuta questa posizione, credo... Sì, sì, sì. Non è che è cambiata con il governo Renzi. E' la posizione che avevamo tre anni fa, la posizione si è discusso varie volte. Abbiamo detto che ci siamo rifiutati di fare la parte abolizione piena delle province quando andavamo non al governo, ritenendo che fosse di natura costituzionale e che dovesse essere vista nell'ambito di un discorso più generale. Noi siamo nella stessa posizione, direi, da anni.